Salve e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi oggi vi spiego come esportare un bellissimo video di ottima qualità, sublime, fantastico, eccellente, senza lag, senza scatti e neanche un po' di pixel. Quindi se hai fatto un buon video ben registrato, significa che possiamo esportarlo benissimo. Quindi come fare? CTRL M, eccolo qua, poi sul formato mettiamo H.264, poi predefinito come sorgente bitrate elevato. Ok, ma se vuoi caricare questo video su YouTube, allora mettiamo YouTube, dipende dal video, come è fatto, ok? Quindi che significa? Se tu hai fatto un video in 1080, lo esporti in 1080, se hai fatto un video in 4K, lo esporti in 4K, io metto 1080. Poi lo salvo sul desktop, poi scendo piano piano su video e metto 1920x1080. scendo un altro po', metto pixel quadrati 1.0, profilo alto, livello 4.2, mi raccomando è molto importante il livello. scendiamo piano piano piano, V, B, R, 1 passata. e riguardo ai bitrate di destinazione, lasciamo così 16, 16, usa massima qualità di rendering. ok? ok. e facciamo... esporta. ok, una volta esportato, vabbè, la temperatura del processo scenderà, e non ci resta che vedere... il video che abbiamo esportato. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video... come potete vedere, la qualità del video è buonissima. quindi... se adesso vado su proprietà, dettagli... 1920x1080, velocità da di 70.000 Kbps, 60 fotogrammi al secondo... buona frequenza audio... è uscito buonissimo. quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, iscriviti al canale, seguimi su Twitch, su Instagram... e mi raccomando, entra nel canale Discord... se hai dei dubbi, non esitare a commentare, va bene? detto questo... io vi saluto... ciao!